Insieme qui, chi ti ha feriti e offesi, è in fuori gioco sì. Non vi spegnete ragazzi, questa è la vostra partita. Dimostrategli ancora che su quel campo c'è vita. Di che bandiera sei se non ci stai, più serenità o una sconfitta sarà sicuro. E di tanto è non so davvero...